Ciao, grazie mille dell'invito intanto. Mi sentite vero perché ho dovuto cambiare le cuffie? Ok, perfetto. Sì, faccio un sacco di cose, tra le altre sono una contributing writer, io rifiuto il termine giornalista e rifiuto il tesserino proprio perché siamo uno dei pochissimi paesi che ha un albo e sinceramente di condividere l'albo con personalità come Feltri e Belpietro e anche Salvini tra l'altro mi viene un po' il rigurgito e l'acidità di stomaco. Non per volontà in realtà ma più o meno come quasi tutte le persone che hanno partecipato a questo panel, io mi occupo di discriminazione non per scelta ma perché il mio corpo è politico. Io sono donna, sono razzializzata, sono figlia di immigrati, sono anzi figlia di migrazione interna e migrazione esterna quindi discriminazione migratoria multipla, anzi a volte mi fanno la battuta che è peggio la parte napoletana della parte nordafricana per dirla tutta e soprattutto sono musulmana, quindi in un paese, in un continente come quello europeo in cui l'islamofobia è diragante, di cui non si parla mai, è diventato necessario per me parlare di questi temi. Sono esperta di geopolitica, sono esperta di nordafrica, sono esperta di sud ovest asiatico e quando si parla secondo me di razzismo un po' come tutte le discriminazioni abbiamo di fronte una piramide, quindi il definirsi non razzista perché non si vuole che i neri o gli immigrati muoiono in mare non significa non essere razzisti, non significa non aver assimilato dei pregiudizi, non significa non avere delle terminologie utilizzare delle narrazioni sbagliate ed è uno dei motivi per cui per esempio io non utilizzo la parola Medio Oriente perché mette come al solito al centro l'Europa rispetto geograficamente a un'area di un mondo che è stata divisa secondo gli accordi Sky Spicò del 1916, cosa che non si fa con tutto il resto del mondo, cioè se tutti gli altri continenti sono divisi mettendo al centro Nord America, Sud America, Centro America, Nord Africa, West Africa, East Africa, Africa subsahariana perché con l'Asia non dovremmo fare lo stesso, perché mettere tutti nello stesso calderone, perché? Perché c'è un bias razzista che vede tutti coloro che sono al di fuori del continente europeo e in generale del Western World come se fossero tutti la stessa cosa, come se fossero tutti dei selvaggi da salvare e come se fossero tutti dei popoli da educare voi siete giovanissimi, siete in università, quindi suppongo che bene o male le matricole adesso sono del 2003 quindi molti, molte e molti di voi non hanno idea di che cosa fosse il mondo prima del crollo delle torri gemelle mi voglio focalizzare su islamofobia e arabofobia, non su razzismo in generale perché penso che, e anche questa è una cosa che a me dà molto fastidio l'opinione pubblica e in generale mass media, giornalismo quando si parla di razzismo oltreoceano focalizzano molto l'attenzione su quello che succede se voi per strada chiedete chi è George Floyd il 99% delle persone sanno chi è se voi fermate una persona per strada e gli chiedete chi è Musabalde chi è Feres, chi è Wissam che sono i nostri morti per il razzismo istituzionale nessuno sa chi è e di islamofobia e di arabofobia si parla ancora meno perché? Perché siamo appunto in un contesto storico di vent'anni di narrazione fallace su quello che è il mondo musulmano e il mondo arabofono in cui di fatto sono nate e sono state portate avanti delle vere e proprie ideologie l'ultima è quella del femo nazionalismo consiglio se non avete letto il saggio di Sarah Ferris che parte proprio dal concetto di utilizzare il femminismo come scudo razzista cioè utilizzare delle prerogative che in teoria dovrebbero essere delle teorie femministe per nascondere dei bias razzisti in particolare si fa proprio l'analisi della comunicazione politica di Le Pen in Francia di Salvini in Italia, di Meloni quindi l'utilizzo del corpo della donna da salvare perché il maschio immigrato è brutto e cattivo ci invade, ci ruba il lavoro, ci ruba le donne la donna immigrata invece è la donna poverina che deve essere salvata dal maschio bianco quindi ritorniamo in quel concetto messianico di salvatore occidentale di quello che c'è dall'altra parte del mondo parlare di razzismo, parlare di islamofobia parlare di discriminazioni interconnesse perché poi se sei una donna migrante chiaramente subisci una discriminazione di un livello successivo rispetto a un uomo migrante se sei una donna trans migrante la situazione è ancora più problematica quindi è tutto interconnesso diciamo che è un discorso che può raccogliere i discorsi che sono stati fatti da tutti prima Sofia parlava di apartheid per i disabili l'apartheid per i disabili lo subiscono per esempio i migranti che hanno delle disabilità lo abbiamo visto con il ragazzo che è stato ucciso dall'assessore a Voghera era una persona di fatto disabile che aveva dei problemi mentali che aveva una malattia mentale che non è stata riconosciuta e ha subito una violenza di stato completamente dimenticata soprattutto dai media ricordiamo che noi avevamo un assessore che va in giro, spara la gente e il nostro assessore in questo momento era stato anche tutelato avevamo anche una parte politica che diceva bisogna controllare quali siano i contesti il contesto e tutto mi scaldo un po' sulla parola contesto perché sono milanese ho appena visto la questione dello sgombero e continuare a vedere parlare di contesto, contesto, contestualizziamo non mi sta facendo venire veramente i capelli che salgono fin da veramente al cielo perché se bisogna contestualizzare qualsiasi azione razzista allora campacavallo che l'erba cresce perché è fondamentale rendersi conto che siamo in un contesto storico a parte incattivito anche per colpa della pandemia perché questo aumento di diseguaglianze sociali un aumento del disagio un aumento della povertà non ha fatto altro che inasprire una lotta tra poveri che già esisteva perché la narrazione come facevamo prima l'immigrato ci toglie il lavoro non ha fatto altro che portare avanti delle spaccature all'interno di uno strato sociale che è stato oppresso dal patriarcato e dal capitalismo come sempre perché quello è il male del mondo più che le culture diverse che sono state esasperate alla massima potenza e oggi c'è un'insostenibilità nella narrazione nel discorso politico istituzionale mediatico nei confronti di coloro che hanno un colore della pelle diverso nei confronti di coloro che hanno una religione diversa nei confronti di coloro che hanno una cultura differente e ci sono alcune discriminazioni razziali che sono passate completamente in sordina si parla della legge Mancino che ha nominato anche Jennifer prima ma voi avete idea di che cosa significa riuscire a far inserire l'aggravante razzista in un caso di discriminazione o in un caso di violenza ed è una legge che c'è dal 1992 noi siamo il paese delle leggi razziali cioè una legge del genere doveva essere inserita nel nostro ordinamento già dal 1948 dal mio punto di vista noi abbiamo dovuto attendere 1992 e quella legge non viene mai non viene mai messa in mezzo quando si parla di una discriminazione di una violenza di base razzista se non per il caso di Luca Traini perché in quel caso era troppo evidente non si poteva evitare non potevano evitare che effettivamente inserissero l'aggravante razzista ma tutte le volte in cui noi subiamo delle microaggressioni non soltanto dalla società ma anche dalle istituzioni questa cosa viene messa da parte il fatto che venga messo in discussione sempre che siamo le persone più controllate dalle forze dell'ordine che durante la pandemia le autocertificazioni venivano chieste ai rider non venivano chieste alle persone bianche per strada il fatto è che tu non sai mai e noi scherziamo sempre mi diciamo ma secondo voi è un controllo random in aeroporto o il mio cognome è Mohammed o sono nera o ho il velo perché c'è anche questa questa discriminazione maggiore bene bisogna partire da qua dalla consapevolezza che è troppo semplice giudicare quello che succede oltreoceano è troppo semplice dire noi non siamo come gli Stati Uniti perché noi non abbiamo avuto la segregazione razziale ma è molto più complesso dire ok noi però abbiamo un sistema che è istituzionalmente razzista la nostra legge sulla cittadinanza è istituzionalmente razzista perché tu te la devi comprare la cittadinanza perché tu la cittadinanza ottieni soltanto 6-10 anni di residenza con un reddito ma se invece nasci qua e hai per sfiga un buco di residenza perché non c'è stata una comunicazione tra due comuni quando tu hai cambiato casa tu a 18 anni non hai neanche più il diritto di chiederla la cittadinanza tutte queste dinamiche sono dinamiche istituzionalmente razziste sono dinamiche che non portano a nulla se non a una stigmatizzazione di una parte della società che acquiscono lo ripeto per l'ennesima volta una spaccatura dal basso noi contro voi a maggior ragione quando si parla da un punto di vista economico sociale perché ripeto mia zia col velo che fa le pulizie è la donna oppressa che deve essere salvata ma se arriva la moglie dell'emiro del Qatar a fare shopping in via Monte Napoleone le mettiamo il tappeto rosso o abbiamo anche il coraggio di dire che l'Arabia Saudita è la patria del nuovo rinascimento però il tempo stesso noi musulmani siamo comunque donne oppresse che devono essere salvate quindi c'è un double standard nella comunicazione immensa e io che rientro nella categoria dell'informazione do la colpa a noi che non siamo in grado di smantellare questi temi non siamo in grado di smantellare queste narrazioni non siamo in grado di smantellare questo linguaggio non siamo in grado di rispondere ai politici che utilizzano certe narrazioni che di fatto portano poi a influenzare una società verso una determinata direzione e perché dico che i media in generale da quelli tradizionali a quelli più recenti hanno un ruolo fondamentale c'è stata una ricerca dell'Università della California sulla rappresentazione delle persone musulmane tra Hollywood il cinema britannico e il cinema neozelandese se andiamo a guardare i dati sono raccapriccianti il 98% delle persone che sono rappresentate come musulmane all'interno di un film sono terroriste o hanno il velo o devono essere salvate non esiste un personaggio che sia apertamente di religione musulmana ma il cui topic non riguarda un argomento legato al terrorismo islamico c'è una rappresentazione estremamente razzista per tutto ciò che concerne quella parte del mondo orientalista poi perché siamo rappresentati come se fossimo tutti uguali come se il Marocco e l'Indonesia fossero la stessa cosa invece ops non è così c'è un continuo tentativo di portare avanti questa narrazione e continuare a mostrare documentazioni di questo tipo non fa altro che aumentare una discriminazione nei confronti di una minoranza storicamente è stato così e non riuscire da una parte a diffondere materiale diffondere libri far vedere film far conoscere veramente quello che è una cultura o più culture non fa altro che portare avanti delle narrazioni pregiudizievoli esattamente come continuano ad andare avanti dagli ultimi vent'anni e la nostra classe dirigente la nostra classe politica in questo momento non sta facendo niente per smantellare le discriminazioni qualsiasi esse siano attenzione perché io credo che noi siamo davanti a un momento storico terrificante perché abbiamo una classe politica che non accetta che esiste la discriminazione omolesbobitransfobica che ad oggi nonostante il femminicidio a livello internazionale è stato utilizzato come termine prima per la Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo e poi per la CEDU per quanto riguarda l'Italia perché noi abbiamo una situazione terrificante sulla violenza di genere non accettano che comunque c'è questa tipologia di problema non accettano che c'è il gender gap non accettano che ci siano delle discriminazioni di classe perché partiamo anche da questa ce la stiamo dimenticando un po' a tutti di classe abilista razzista siamo in un momento storico in cui c'è un annullamento di queste discriminazioni per quanto riguarda l'agenda politics dobbiamo partire da qua ed è fondamentale secondo me vedere una nuova generazione perché rispetto io sono un po' più grande di voi ma vedere la vostra generazione e anche i ragazzi del liceo super sul pezzo su queste tematiche che portano in piazza queste tematiche fa vedere che in realtà la società si sta muovendo in una direzione differente e quindi bisogna continuare a creare questo genere di tavoli questo genere di incontri per far sì che a un certo punto anche chi è dall'alto si renda conto che dal basso non accettiamo più la condizione così com'è perché io non accetto più che a me si chieda per forza la foto sul curriculum per vedere se ho il velo o meno per il mio cognome io non accetto più che la prima cosa che mi chiedono in questura quando rinnovo il passaporto nonostante la mia anagrafica mi chiedono quando io ho rinnovato l'ultimo permesso di soggiorno e io non l'ho mai avuto il permesso di soggiorno per me queste sono cose inaccettabili e vedere oggi sentire ogni volta Emma vi lamentate sempre eh vabbè ma tanto il passaporto ce l'hai eh vabbè ma tanto a te ti merano per strada è grazie al cavolo io ho il white passing il mio ragazzo che è nero il white passing non ce l'ha e stiamo qua a ridere e scherzare dicendo adesso che fanno il controllo sui mezzi del green pass chissà chi controlleranno il green pass tutte queste cose sono tutte microaggressioni che subiamo quotidianamente e che ci vengono gaslightate ogni singolo giorno a partire dalla classe dirigente quindi non ha dal mio punto di vista più senso continuare a parlare della discriminazione degli afroamericani parliamo di quello che succede in Italia parliamo di quello che succede in Europa perché abbiamo di fronte delle elezioni in Francia che vedono personalità come Zemmour che credono che gli omosessuali non hanno diritto di adottare che le donne sono meno intelligenti degli uomini e che le persone non potrebbero più chiamare il loro figlio Mohammed nel caso lui diventasse presidente della Repubblica abbiamo Marine Le Pen abbiamo un nazionalismo dilagante in Europa che fa paura e il fatto che nessuno ne parli dal mio punto di vista è ancora più pericoloso del cercare di ripulirsi la coscienza con noi non siamo come gli americani perché noi non abbiamo avuto la schiavitù grazie grazie a tutti